Secondo un'elaborazione dell'Ufficio Studi della CGA, nei primi tre mesi di quest'anno un'impresa italiana su cinque è stata costretta a licenziare a causa degli effetti negativi dovuti ai ritardi nei pagamenti. Purtroppo continuiamo ad essere i peggiori pagatori d'Europa. Se mediamente la nostra pubblica amministrazione paga le imprese a 165 giorni, 107 giorni in più rispetto alla media europea, nei rapporti commerciali tra imprese ci vogliono 94 giorni affinché il committente saldi il proprio fornitore. Anche nei rapporti tra privati e imprese la situazione rimane difficile. Sono necessari mediamente 75 giorni per essere definitivamente pagati, 41 in più della media UE. Grazie. Grazie.